Social media ragazzi, voi non dovreste avere i social media, toglieteli, 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 ma come faccio a togliere i social media? Vai su impostazioni, scroll, delete, account, cancella l'account, cosa perdi? Eh ma ci sono tutte le foto per chi le guarda, eh ma sono per me, mettetela sul computer e poi cancella l'account. Sono stupidi, se qualcuno ti ha spesso e si l'ho eliminato e non c'ho più voglia di avere a che fare con voi e con qualcuno ci dovrete litigare a volte, lo sapete? Dovete proprio dirglielo, se qualcuno vi scassa troppo le palle, è lì che non so se andate a scuola, andate sul lavoro, no ma non ti capisco, ascolta, sto cambiando, sto diventando la persona che non perde più tempo, che fa tanti soldi e quindi adesso mi vedi, tanto tu tra qualche mese non mi vedi più. Potete dirglielo, queste sono tutte tecniche, andate ai vostri ruoli e dicevo guarda, volevo fare un party per, magari siete anche in un ambiente che vi piace, con persone mediamente intelligenti, cioè buon Dio capita, fare un party perché tra X mesi me ne vado. Social media, eliminateli, toglieteli, non guardare, non state a litigare sui social media, ragazzi non vi rendete conto che voi spendete tempo a litigare sui social media? Io scuso chi entra su Instagram a vedersi i culi delle tipi, cioè almeno si usa, o TikTok, vedi le diciottenne che twercano, cioè almeno ha un senso nell'universo. Ma non andare, Facebook poi è la merda, le discussioni, ma voi avete mai visto i post, quelli che ricevono molto traffico, no? Cioè quelle notizie virali, per esempio io mi sono sempre chiesto perché ci sono i commenti? Guardate che sono domande profonde. Vedi un milione, a volte, 18 mila commenti, 43 mila condivisioni e si creano i thread, c'è la gente lì? Quella gente lì oltretutto non dovrebbe essere a lavorare mica? Beh, non sono mica tutti i miliardali quelli che stanno su Facebook, i miliardali non ci sono, sono tutti in realtà impiegati, quelli che stanno su Facebook, che sono a lavoro, su Facebook, e sono quelli che non diventano ricchi. E che quando tu gli dici che hai delle informazioni concrete, un piano che si sta concretizzando in divenire per diventare ricco, quantomeno vuoi morire provando, e ci va, fanculo, questi ti giudicano male. Adesso bisogna un attimo, io capisco di avere un tono un attimo divertente così che tende all'aggressività, però venitemi anche dietro un attimo, sto dicendo delle cose strane, guardate che è... E li trovi lì, vedi che si creano i post, se tu osservi il post per un minuto, uno ha postato, mette il like, poi litigano, avete visto che litigano sempre? Ah, perché tu mi hai giudicato, perché sono lì che parlano con uno che non hanno mai visto su Facebook, ragazzi siamo una società malata, è andata quella roba lì. Bene, che cazzo di problemi di giudizio avete? Sono stupidi, liberatevi da questa cosa qua, come si fa? Capendo che sono stupidi, e accumulando forza interiore, forza interiore, self confidence, dovete fare tutto, nel senso che è normale, se ancora siete timidini, non avete ancora bene capito come funziona il successo, i soldi, la riprogrammazione, queste cose in cui 23 gradi. Abbassato ancora di più l'aria condizionata. Sarete un po' insicuri, quindi gli altri tenderete a metterli in un piedistallo, su un piedistallo. Un'altra cosa che a voi vi interessa il giudizio solo di coloro che mettete gerarchicamente superiore a voi. Voi non vi interessa del giudizio degli sfigati. Questa è una cosa che a noi fa male ammettere. Quando tu te la prendi perché qualcuno dice qualcosa, è perché tu credi che quel qualcuno sia più in alto di te o più bravo di te, o quantomeno alla pari di te nel fare qualcosa. Quando vi interessa il parere di qualcuno, vuol dire che voi date importanza a quel qualcuno, ma che non è un ragionamento filosofico, è proprio così. Quindi, cioè, quando se lo sfigato della scuola dice alla più bella della classe che è brutta, quella non ci crede e ride. Se arriva al più bello della classe e dice sei brutta, quella è un attimo un problema. Oppure, ancora meglio si capisce, se una molto più brutta di lei le dice che sei brutta, quella ride. Se arriva a quella più bella e dice sei brutta, lei piange. Perché voi pensate, mettete le persone su un piedistallo, cosa che dovete smettere di farvi, sono imbecilli, e li guardate dal basso. Quindi voi credete che questa persona che è più in alto abbia quindi il potere di giudicarvi e fare questa roba qua. Il modo in cui si risolve parte di questa cosa qua, ci sono degli esercizi, ok? Dovete fare una lista di tutte le cose che voi pensate che questo sia più bravo a fare. Per esempio, più bravo a fare questo, più bravo a fare, ok, è più bello, è più ricco, eccetera. E trovare dove voi avete queste qualità nella vita. Quindi lui è bravo a fare soldi. Voi magari non siete abili a fare soldi, ma dove avete questa sua stessa abilità in un altro campo? E se non ce l'avete, la dovete costruire. Questo equalizza la situazione, ok? Grazie.